posso andare? allora ciao scusate che sto col pigiama ma allora mi presento sono Matteo e mi potete chiamare Matteo o Big Mati allora in questi giorni non posso un po' di tempo non posso fare tipo video su giochi perché non c'ho la fotocamera poi quando avrò la fotocamera farò i video su cose adesso farò tipo video su oggetti e poi domani forse farò i video sul mio maiale che possa arrivare il maiale poi mi voglio vabbè spero che mi iscrivete al mio canale perché questo è il primo video della presentazione come ciao e vediamo al prossimo video ciao ciao